Benvenuto in questo nuovo video dove ti spiegherò come diventare miliardario in soli 37 secondi e come, grazie a me, ma solamente dandomi 10.000 euro al mese, potrai superare Elon Musk. Ovviamente stavo scherzando, ma perché ho fatto questa battuta, perché ho fatto questa sceneggiata? Beh, perché vi spiegherò all'interno di questo video quali sono le tre truffe del passive income, ovvero della rendita passiva, che spopolano sul web. Negli ultimi anni e mesi stanno spopolando delle truffe incredibili sul web. Purtroppo sponsorizzate anche da influencer e pseudoguru che, senza nessun tipo di problema, truffano palesemente le persone. Siccome mi sono stufato e spesso ci cascano anche persone che fanno parte della mia community, ho deciso di smascherarle una volta per tutte. Dove? Beh, ovviamente in questo video. Quindi iscriviti subito al canale per non perderti altri video interessantissimi come questo. Le promesse sono ovviamente efficaci. Chi non vorrebbe diventare ricco senza fare assolutamente nulla? Il problema è che l'arricchirsi senza fare nulla purtroppo non esiste. Soprattutto non esiste con gli schemi ponzi e con le truffe che queste persone cercano di propinarci. Purtroppo queste proposte sono altamente inaffidabili o nascondono dei rischi che la maggior parte delle persone non conoscono. Quindi sì, magari è anche possibile arricchirsi col trading, ma difficilmente diventerai milionario in un mese e soprattutto c'è un altissimo rischio che tu possa perdere tutti i tuoi soldi. E te lo dice uno che con le criptovalute ha perso quasi 100.000 euro e che invece con il trading è stato molto fortunato e si ha guadagnato dei soldi. Ma dall'altra parte, così come li ho guadagnati, li ho persi in molto poco tempo perché purtroppo le oscillazioni nel mercato sono veramente altissime. Significa che un giorno puoi essere sopra di 5.000 euro e il giorno dopo puoi essere sotto di 3.000 euro semplicemente perché è uscita una notizia che ha danneggiato un determinato tipo di azienda e quindi i tuoi soldi si sono volatilizzati. La truffa numero uno che andremo ad analizzare è uno schema Ponzi. Funziona esattamente così. Un influencer vi chiede una somma di denaro che sarà investita nei modi più disparati. Criptovalute, oro, argento, platino e palladio. Cifre che vi promettono di restituirvi direttamente moltiplicate. Ovvero tu mandi 500 euro a me e io te ne rimando indietro 1.000. Come per magia. Inutile dirvi che ovviamente è una fregatura e quasi sicuramente questi soldi svaniranno nel nulla. Oppure l'alternativa è molto più subdola. Sì, voi darete 500 euro a questa persona e questa persona ve ne restituirà realmente 1.000. Così facendo voi sarete effettivamente contenti, sarete anche ben disposti a fare pubblicità a questa persona. Magari registrando una videotestimonianza. Una volta registrate 5, 10, 20 testimonianze così, queste persone inizieranno ad avere sempre più clienti, fino a che poi effettivamente non spariranno nel nulla col malloppo di molte più persone. Perché limitarsi a truffare due o tre persone gli espone ad un grandissimo rischio per pochi spiccioli. Mentre una volta che riusciranno a truffare centinaia o migliaia di persone, staranno rischiando, ma almeno staranno rischiando per centinaia di migliaia di euro o addirittura milioni. Un altro modo che fa sempre parte di questa prima metodologia è quello di chiedervi magari 500 euro, ve ne restituiscono 1.000, ma questi 500 euro di guadagno sono stati pagati da un altro malcapitato e così via. Così facendo sì, qualcuno andrà effettivamente a guadagnare, ma si starà creando uno schema Ponzi. Ovvero uno schema dove tu puoi guadagnare solo se c'è qualcun altro che viene fregato. Gli schemi Ponzi possono funzionare anche all'inizio, ma prima o poi andandosi ad ingrandire la catena di Sant'Antonio ed essendo necessarie sempre più persone per far guadagnare quelle nella prima parte della scala gerarchica della piramide, beh, sarà a quel punto insostenibile riuscire a guadagnare e di norma questi schemi Ponzi esplodono. Dove chi è entrato all'inizio è riuscito magari anche sì realmente a guadagnare, ma chi arriva alla fine di norma rimane con il cerino in mano, ovvero perde tutti i propri soldi. Il problema è che non è che quando ti propongono uno schema Ponzi ti dicono guarda siamo all'inizio e tu sicuramente guadagnerai, o ti dicono siamo alla fine e ti trufferò. Tu ci entri sperando di riuscire a guadagnare qualcosa, ma quasi sicuramente rimarrai fregato o avrai perso i tuoi soldi. La truffa numero due consiste nello sfruttare delle parole che in questo momento sono molto altisonanti come intelligenza artificiale o criptovalute. Non sono delle vere e proprie truffe, sono diciamo delle opportunità, però delle opportunità dove guadagnare è molto difficile e perdere tutti i propri soldi è molto facile. Quindi magari si può realmente guadagnare, ma non ci dicono mai le cose come stanno. Non ti dicono, ehi guarda che la probabilità che i tuoi 1000 euro diventino 2000 euro è molto bassa e non ti dicono che poi quei 1000 euro è molto probabile che diventino 500 euro, ovvero che tu perda denaro. Perché il loro interesse è quello di venderti un loro software, di utilizzare una loro piattaforma dove loro guadagneranno. Infatti quando ti invitano a dei bot di trading automatico gratuitamente è perché loro guadagnano dalle tue perdite. Loro hanno interesse nel che tu metta soldi, perché più soldi metti e più le piattaforme pagano queste persone. Ma le piattaforme ovviamente guadagnano quando tu perdi. Praticamente scommettono contro di te, facendoti credere che in realtà vogliono fare il tuo bene. È come quando vai al casino, il banco vince sempre. È come i siti di scommesse che guadagnano quando tu perdi, non quando tu vinci. Ed ecco perché devi stare molto attento a questa tipologia di truffa. Per ottenere infatti i rendimenti alti, si usa una leva altissima e al minimo problema perderete tutto il capitale. E talvolta anche di più. E spesso le piattaforme che vengono utilizzate sono piattaforme poste al di fuori dell'Unione Europea, con legislazioni e regolamentazioni assurde, con l'impossibilità di andare a denunciare queste persone e di conseguenza recuperare il proprio capitale. Diventa letteralmente impossibile. Quindi se qualcuno vi sta vendendo il proprio software, probabilmente guadagnerà dalla vendita di quel software e dalle commissioni che darà su ogni perdita il broker. Se invece il software ve lo stanno regalando, significa che guadagnano solo ed esclusivamente dalle perdite che farete su questi software. Perché secondo voi quando depositate 100€ su un sito di scommesse o su un bot di trading vi raddoppiano il denaro? Perché tanto sanno che sia che non lo raddoppiano o che lo raddoppiano, quei soldi voi li perderete. Quindi voi mettete 100€, loro ve li moltiplicano per 200, voi avrete perso tutto quanto e loro effettivamente hanno fatto un profitto netto di 100€. E questo vale sia per le scommesse sportive che per criptovalute, bot di trading e tanto altro. Se proprio volete iniziare a guadagnare con il trading, compratevi dei libri di finanza, iscrivetevi a dei corsi regolamentati di finanza e rischiate con i vostri soldi. Ma almeno le operazioni le gestite voi. Se proprio proprio perdete dei soldi è colpa vostra. E siamo giunti alla truffa numero 3. Ovvero i corsi di formazione disonesti. Purtroppo ne è pieno il mondo e spesso anche coloro che lavorano seriamente ed onestamente vengono erroneamente etichettati come fuffaguru. Ovvero persone che vendono della fuffa. Vendono qualcosa di fumoso, vendono qualcosa di non realmente efficace. Queste non sono delle vere e proprie truffe, ma sono semplicemente persone disoneste che fanno delle promesse completamente errate e irraggiungibili. Come coloro che vi promettono di diventare ricchi comprando prodotti dalla Cina e rivendendoli su un sito sconosciuto che avete creato voi. Scusatemi, ma perché io dovrei comprare uno spremiagrumi da un sito sconosciuto quando posso averlo? Comodamente a casa mia il giorno dopo, ordinandolo da Amazon, dove probabilmente costa anche meno. Ad esempio io posseggo un e-commerce, ma posso permettermi di averlo perché ho un grosso pubblico al quale vendere i prodotti, perché ho un brand famoso e soprattutto ho dietro una società, ho dei costi, ho una logistica, ho tante cose che tu che stai guardando questo video probabilmente non hai e non vuoi neanche avere. Solo che queste cose quando compri il loro corso di e-commerce, ad esempio, non te le dicono. Non ti dicono che devi avere una partita IVA obbligatoria, non ti dicono che devi pagare un commercialista e neanche poco. Non ti dicono che devi emettere tantissime fatture, avere una logistica, avere degli stock, avere a che fare con persone dalla Cina, con un flusorario completamente diverso, devi pagare la dogana, gestire i resi e tanto altro ancora. Ecco perché l'e-commerce è sì un'opportunità, ma solo se hai decine di migliaia di euro da investire e soprattutto una grossa fetta di pubblico al quale vendere i tuoi prodotti. E un'altra delle fregature che coloro che vendono corsi spesso attuano è quello di farvi credere che il corso a quel punto non è più sufficiente, ma è necessario attuare dei percorsi done for you o done with you, dove ti seguono passo dopo passo nella creazione del tuo store o tanto altro ancora. Beh, ma ancora una volta, perché un qualcuno, anche se tu mi segui H24, sette giorni su sette, dovrebbe comprare quel dato prodotto dal mio negozio sconosciuto, quando può trovarlo tranquillamente su Amazon.it. E soprattutto, come fanno a seguire effettivamente centinaia e centinaia di clienti? Beh, quello che fanno è creano effettivamente un e-commerce e poi lo copiano e incollano per tutti quanti. Quindi poi magari vi ritrovate ad avere lo stesso negozio che vende lo stesso prodotto di altri 50 studenti di questo adepto. Ed ecco che il vero guadagno di questo formatore è stato venderti il corso, non il gestire lui stesso degli e-commerce. Non facciamo però di tutta l'erba un fascio, perché ci sono anche formatori seri che svolgono realmente il business che insegnano. Ma come potete capirlo? Beh, è molto semplice. Fate delle domande molto specifiche a queste persone su quel business e vedete se sono in grado di rispondervi immediatamente o se brancolano nel buio. Chiedete loro quali sono i loro store e fatevi vedere i risultati in tempo reale. Ad esempio, spesso mi chiedono di vedere i miei immobili su Airbnb e io, senza nessun tipo di problema, mostro loro i miei immobili e le mie prenotazioni. Ma soprattutto analizzate le testimonianze dei casi studio di successo. Perché non ci vuole nulla pagare un ragazzino 50 euro per fingere che abbia guadagnato grazie al nostro corso. Ad esempio, in tutte le testimonianze di B&B Academy trovate il link in descrizione per visionare gli immobili che questa persona ha acquisito grazie al nostro corso. È impossibile falsificare un qualcosa del genere perché sono immobili che devono esistere e che voi stessi potrete prenotare. Ecco perché tutte le testimonianze di B&B Academy sono vere ed è impossibile affermare il contrario. Bene, trovate dei formatori che facciano ciò. Sono sicuro che avrete molta difficoltà a trovare un qualcuno che sarà in grado di dimostrare realmente che i propri studenti guadagnano. Però qualcuno vi posso assicurare che c'è. Siamo giunti al termine di questo video dove abbiamo smascherato tre delle principali truffe che influencer e crypto guru cercano di propinarvi tutti i santi giorni attraverso i loro social. Ma a questo punto qual è il consiglio che posso darvi? È quello di lavorare sodo e trovare un business che sia realmente solido e che vi permetta di guadagnare. Di essere consapevoli di quali sono sì i benefici ma anche i rischi. E soprattutto di analizzare attentamente a chi decidete di affidarvi. Se volete ulteriori consigli sui migliori business da analizzare per iniziare a guadagnare online in maniera semplice ma efficace, beh, ho preparato dei contenuti che trovate qua in basso. Non perdeteveli perché sono delle vere e proprie miniere d'oro. Io sono Ludovico Cianchetta Vasquez, fondatore di B&B Academy. Iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!